La chiusura di Maurizio Landini è stata tutta incentrata da un lato sul ribadire quelle che sono le ragioni che portano allo sciopero generale del 9 di marzo e che portano in generale la fioma a tentare di trascinare la CGL ad avere un atteggiamento più conflittuale nei confronti di un governo che sembra aver già preso l'accordo con i partiti che in Parlamento poi dovranno approvare la riforma del mercato del lavoro e in particolar modo attorno al nodo dell'articolo 18. Landini ci ha tenuto a dire che questo sciopero è anche frutto di una condivisione all'interno della CGL e in questo io credo bisogna leggere invece il fatto che Landini chiama alle sue responsabilità un sindacato che dice di voler difendere i diritti dei lavoratori in tutti i suoi aspetti. Anche per questo è evidente che Maurizio Landini ha giocato tutta questa assemblea sul terreno della costruzione di un'iniziativa che va ben oltre il 9 di marzo, che inizia il 9 di marzo ma che si deve dipanare poi attorno al nodo dal punto di vista sindacale della costruzione eventualmente di uno sciopero generale di tutte le categorie di autore. Però l'altra parte dell'intervento di chiusura, come era stato anche per quello iniziale ma anche in proporzioni maggiori, è stata dedicata ai temi che riguardano la piattaforma sociale in realtà, che è la grande questione di questi giorni in verità. Una questione che per esempio vede il governo giocare con una figura assente in termini di rappresentanza, cioè la precarietà giovanile e giocarla contro le rigidità di diritti e di tutele che erano stati stabiliti e conquistati attorno alla cornice del contratto nazionale di lavoro. Siccome la cornice del contratto nazionale ne esce devastata sia dal periodo Marchione ma più in generale dalla deregulation del mercato del lavoro, che è la filosofia su cui si basa il neoliberismo da questo punto di vista, non solo per quanto riguarda il welfare in generale, i beni comuni, per quanto riguarda gli obblighi tra virgolette dell'impresa o della finanza, ma anche per quanto riguarda i diritti e le garanzie stiamo assistendo a una sostanziale deregulation che significa poi togliere anche politicamente la responsabilità sociale dell'impresa, ma significa anche consegnare a una dinamica di mercato la regolazione possibile del conflitto tra capitale e lavoro, cosa questa che evidentemente ha già dimostrato che cosa può far accadere. E mi riferisco al fatto che ci sono 46 tipologie contrattuali diverse oggi per un numero sempre crescente di lavoratori e lavoratrici precari e le 46 tipologie di contratto sono state introdotte dalla legge Biagi dopo la legge Treu e questi erano i tentativi di dare un vestito a ciò che il mercato già faceva, a ciò che la costituzione materiale del lavoro già produceva, attorno al nodo che la flessibilità significa precarietà, che la flessibilità è solo al servizio del mercato e non è mai al servizio delle persone. L'altra parte dell'intervento di chiusura è stata molto importante perché ad esempio ha molto puntualizzato il fatto che va costruita insieme una piattaforma sociale, cioè che parte dal nodo del contratto nazionale ma che si allarga al problema delle tutele dei diritti per il lavoro precario e per il lavoro in tutte le sue forme. Il secondo nodo importante è il reddito di cittadinanza, che è visto non come sostituzione naturalmente degli ammortizzatori sociali esistenti, cioè nel senso i due ammortizzatori sociali che sono più utilizzati in questo momento e che sono la cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Landini ci tiene a sottolineare anche la cassa integrazione straordinaria perché vuole evitare che l'eliminazione della cassa straordinaria sia il pretesto per concludere il rapporto di lavoro, cioè per immettere nella dinamica della disoccupazione migliaia e migliaia di lavoratori che anche adesso saranno appunto con la recessione tecnica ed economica di questo paese vedranno questo problema. Però dice anche molto chiaramente che c'è un nodo che riguarda il reddito di cittadinanza e in questo anche forzando il corpo stesso della FIOMO perché l'abbiamo visto anche dalle reazioni in sala che non si scaldavano, ascoltavano più che altro, però sul nodo del reddito di cittadinanza prodotto dalla fiscalità generale e da un diverso rapporto con la tassazione dei patrimoni e delle rendite perché questo nodo del reddito di cittadinanza, dice Landini, ha a che fare con la redistribuzione della ricchezza da un lato e con la costruzione di diritti e tutele per una forma di lavoro precario ed intermittente che altrimenti non le ha. Io credo che questo sia un nodo centrale, la proposta di far seguire subito dopo la manifestazione del 9 una grande assemblea aperta, generale, che apra il percorso di lotta che possa mettere assieme figure diverse del lavoro, credo che sia una cosa interessante su cui dobbiamo tutti lavorare. Chiaramente adesso si tratta poi di costruire il 9 di marzo a partire dai territori, a partire dal fatto che evidentemente ci sono dei limiti da superare, i limiti sono il fatto che qui va conquistato sempre di più un terreno di lotta sociale uscendo dal meccanismo delle categorie.